Il consulente è stato incaricato dalla procura di accertare che gli impianti rispettino le norme sulle misure di sicurezza sul lavoro, a partire dall'impastatrice in cui, oramai una settimana fa, ha perso la vita all'operaio e 53enne Mario Orlando. Le indagini sono coordinate dai sostituti Carmen Ruggero e Paula Guglielmi che sabato scorso hanno disposto il sequestro di tutti i macchinari dell'azienda. La produzione è ferma da diversi giorni, per questo, nelle scorse ore, i legali della proprietà, gli avvocati Andrea Sambati e Paolo Fedele, hanno presentato istanza di dissequestro sulla scorta delle importanti commesse che l'impresa si è aggiudicata con aziende di livello internazionale. Per la morte di Orlando sono quattro i nomi finiti nel registro degli indagati. Sulla base della testimonianza di un operaio che qualche giorno fa ha ritrattato la prima versione dei fatti, è stata ipotizzata l'accusa di omicidio colposo nei confronti di un collega della vittima, Mario Deicco, 53 anni anche lui, che avrebbe azionato l'impastatrice. Le accuse di rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e di morte come conseguenza del primo reato sono state invece ipotizzate nei confronti di Attilio Scarlino, amministratore unico dell'azienda, del fratello Antonio, responsabile della sicurezza, e di Luigi De Paola, caporeparto. Accuse tutte da dimostrare, ma legate alla presunta assenza del cancelletto, ora sotto sigilli, che gli stessi responsabili hanno consegnato ai poliziotti del commissariato di Taurisano al comando del vicequestore Salvatore Federico, che stanno conducendo le indagini. Sull'istanza di dissequestro i magistrati non risponderanno prima di lunedì.